Per il filo diretto dedicato al giorno della memoria è stato chiesto a tre relatori di età diverse di raccontare un testo legato alla Shoah. Se questo è un uomo di Primo Levi è stato illustrato da Guido Neppi Modona, docente dell'Università di Torino e vicepresidente emerito della Corte Costituzionale. Milano Mauthausen e ritorno di Bruno Vasari è stata la scelta di Barbara Berruti e 16 ottobre 1943 di Giacomo De Benedetti quella di Giacomo Verri, insegnante e scrittore. Per tramandare la memoria dei campi di Serminio io non ho avuto dubbi, ho scelto se questo è un uomo di Primo Levi che ho letto credo in prima media, quindi a 11 anni e che ha lasciato una traccia profondissima nel senso di un dovere di tramandare questa memoria ai miei figli e ai figli dei miei figli. E però vorrei ancora dire qualche cosa d'altro, dire che ho una testimonianza personale come perseguitato raziale, avevo pochi giorni quando sono state emanate le leggi razziali, cosa c'è stato prima dal 38 al 43, cosa hanno significato in Italia le leggi razziali come premessa di quello che poi è stato la persecuzione delle vite attraverso i campi di Serminio. Grazie a tutti.